Con Scatolino, con il sindaco, il padre di questo chi, io sono stato 15 anni su un comune con noi. Ha lavorato in comune? Sì, era con il consiglio, era assessore. 15 anni, assessore, sono stato in comune. A che cosa, assessore? No, quella volta non c'era assessore a cosa, facevamo tutti insieme. Era solo che noi nelle contrade, ogni contrada, quando andavi lì al consiglio, guarda, da noi, con questo, da noi, c'era Baldassari, là, quel che è morto, con dei motori, e doveva fare la Madonna del piano, e doveva fare la te, se ti mandava qualcosa.